Sapevi che il carcere di Marefuori esiste davvero? Ciao, sono Valerio Novara. In realtà, le scene all'esterno dell'Istituto di Pena Minorile sono state girate presso la Marina Militare di Napoli, lungo il Molo di San Vincenzo. È un'architettura che si estende in lunghezza, squadrata, e vanta una maxifacciata a vista sulle acque del golfo. Il faro, che fa parte del complesso, è una torre che domina l'orizzonte e che nelle riprese svetta ogni presente con il suo occhio illuminante. Le scene all'interno sono state effettivamente ricreate con una scenografia all'interno dell'apparato ministeriale e con un lavoro in simbiosi fra il regista e lo scenografo, che sono riusciti a ricreare a tutti gli effetti l'ambiente che è quello di un carcere minorile per ragazzi e ragazze. I corridoi sono come arterie, definite da sbarre vedo non vedo, così le stanze condivise sono prigioni, certo, ma anche rifugi in caso di pericolo. Il titolo della serie parla chiaro, mare fuori è tutto quello che si vede dalle finestre del carcere, è tutto ciò che sta al di là delle sbarre, e quindi anche l'odio, l'amore, la passione. In particolare il carcere, che è l'ambiente al centro della trama della serie, è il luogo e lo spazio in cui si cresce e si lotta per sopravvivere e per avere un proprio status quo all'interno di una società che ha profondamente cambiato questi ragazzi e che prova a tirar fuori il meglio di loro, purtroppo spesso senza riuscirci. A Napoli però esiste davvero un carcere minorile per ragazzi e ragazze. È l'istituto penale per minorenni di Nisida, che si trova in cima a un isolotto ed è totalmente isolato dal contesto urbano. Ricordiamo che la terza stagione di Mare fuori è disponibile su Rai Play dal primo febbraio e dal 15 febbraio su Rai 2, mentre le prime due stagioni si possono trovare su Netflix, dove la serie è in cima alla top 10 da ormai alcune settimane. Tra l'altro non tutti i protagonisti della serie sono napoletani, anzi la maggior parte di loro viene dal resto d'Italia, Milano, Roma e molti di loro hanno dovuto imparare e hanno fatto benissimo anche perché non ce ne accorgiamo spesso quando parlano, hanno dovuto imparare il napoletano e riescono quindi ad amalgamarsi alla grande con i ragazzi che invece sono proprio napoletani e che quindi hanno il dialetto nelle loro corde vocali. Come al solito io vi consiglio di iscrivervi al nostro canale YouTube, c'è attenzione di seguirci su Facebook e su Instagram, dove quotidianamente pubblichiamo news che riguardano il mondo del cinema e delle serie TV. Al prossimo video!